Un evento particolare qui ad Aglie in vista delle festività natalizie? Sì esatto, quest'anno il Comune di Aglie in collaborazione con tante associazioni che hanno voluto anche quest'anno darci il loro sostegno ha deciso di organizzare un qualcosa di diverso e quest'anno abbiamo pensato di portare una mongolfiera in Piazza Castello per così far vedere il panorama del nostro territorio da un punto di vista diverso a tutti coloro che oggi verranno a trovarci. C'è un'ottima fluenza e quindi siamo già dall'inizio soddisfatti della riuscita di questo evento, un evento che aiuta anche a fare del bene perché con questo Natale abbiamo deciso di donare tutti i proventi dei biglietti per i giri in mongolfiera a un'associazione che si occupa di sostenere le famiglie dei bambini nati prematuri. L'associazione Piccoli Passi Onlus che fa capo all'ospedale Sant'Anna di Torino, già da tempo siamo in contatto con questa associazione e cerchiamo quando possibile di aiutarli e quest'anno per Natale abbiamo deciso di destinare a loro i proventi dei nostri festeggiamenti natalizi. Un'altra particolarità sono le palle di neve? Sì esatto, dall'altra parte della piazza ci sono queste particolari palle di neve, le boule de neige con una scenografia all'interno, sono delle bellissime palle gonfiate ad aria dove si può entrare e fare fotografie, fare selfie, insomma qualcosa di diverso mentre si degusta un vin brulee e qualche prodotto che ci fanno assaggiare le nostre associazioni. Musica 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 Grazie a tutti.